Un incendio divampato in un alloggio situato al secondo piano di una palazzina di via della Lumaca, Rivarolo Canavese, oggi giovedì 7 giugno intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea, Rivarolo Canavese, l'autoscala, il carro a fiamma, i carabinieri e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno prontamente domato e spento l'incendio che si era già propagato, intaccando l'alloggio vicino. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Indagini in corso sulle cause. Un mercato per il posto del luogo in un pò, dove si tornava un pò, dove si tratta, e poi ragazzi, ecco il centrale. Corso la canale, l'alloggio, tornava un'estima in un'unica pratica, ciega, ecco il nazionale. Grazie a tutti.